Poco più di un mese fa l'ex volto di uomini e donne, Martina Lucena, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Sarà maschio o femmina? Oggi, 29 aprile, è arrivato il grande giorno in cui Martina e il compagno Maurizio Bonori sono venuti a conoscenza del sesso del loro bebè. Sì, perché proprio poco fa si è tenuto il cosiddetto gender revealing party, in cui l'influencer ha ricevuto la notizia più attesa, nella vita della coppia arriverà presto una bellissima bambina. Il nostro mondo si colora di rosa. Il nostro cuore scoppia di gioia. Ciao zie, ha scritto Martina sul suo profilo Instagram per comunicare alle sue seguaci, le future zie della bambina, la lieta notizia. Per l'occasione, l'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha condiviso un video insieme a Maurizio e al figlio del compagno avuto da una precedente relazione, in cui insieme hanno aperto una scatola dalla quale sono usciti dei palloncini rosa. A quel punto, tutti e tre si sono scambiati un caloroso abbraccio, coronato dalle lacrime di gioia della Lucena e da un tenero bacio dei due futuri genitori. Anche questa volta, insieme alla Lucena e il fidanzato, era presente il primo figlio di Maurizio, avuto quando aveva solamente 22 anni. L'imprenditore Bresciano è legatissimo al bambino, e, dopo essersi fidanzato con Martina un paio di anni fa, loro tre sembrano essere diventati proprio una cosa sola. Proprio per questo, il piccolo è sempre in prima linea nei momenti cruciali riguardanti la coppia e la nuova famiglia che stanno creando. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.